Ranieri, le sono state attribuite delle frasi ieri nell'incontro che ha avuto con i tifosi qui al cancello di Trigoria. Faccio un rapido sunto. Quando le chiedevano chi decide, lei avrebbe detto testa grigia a Londra e quello di Bostor. Volevo verificare per correttezza se sono reali. Non mi sembra di aver utilizzato queste parole. Sicuramente quando i nostri tifosi chiedevano spiegazioni sulle decisioni da chi era stato preso, da chi erano state prese le decisioni per la fine del rapporto di Daniele qui alla Roma, io ho detto sicuramente a Londra e in America, perché chi è che decide? La società è il presidente e chi gli sta più vicino è la persona che sta in Inghilterra. È il calcio, è la legge del calcio. A un certo punto la società vuole cambiare, vuole altri giocatori, per cui come sono i giocatori che alcune volte scelgono un'altra società, è così sono le società che alcune volte scelgono allenatori, direttori sportivi, giocatori. Certo che per una figura così importante come il capitano della Roma, avendo i tifosi della Roma un amore sviscerato per la propria squadra, un attimo, una considerazione un pochettino più attenta avrebbe consigliato magari un altro comportamento. Io non parlo se mi fosse stato offerto il ruolo da dirigente. Io sono allenatore, se mi fosse stato chiesto, guarda resterai tu, cosa ne pensi di Daniele, io avrei detto lo voglio perché so che giocatore è, che uomo è, che capitano è.